Il genio di Leonardo interpretato nelle tele dei pittori si incrocia con la raffinatezza della collezione Rinascimento della nota stilista Lella Pepe, una domenica di arte, bellezza e cultura, quella ospitata dalla Torre del Castero di Castiglionfiorentino, un appuntamento all'interno del ricco programma del Maggio Castiglionese. La mia collezione si chiama Rinascimento, non a caso mi sono ispirata proprio a Rinascimento con un contrasto di nuovo e vecchio insieme e mi è sembrato proprio il posto adatto per presentare questa collezione, un omaggio a Leonardo, un omaggio alla bellezza, un omaggio al vecchio e il nuovo per il vedere il futuro. L'estemporanea di pittura dal tema Il Volo di Leonardo dal Rinascimento al Contemporaneo a cura di Mariangela Baldi ha visto la partecipazione di pittori italiani e stranieri. In tre si sono aggiudicati il favore della giuria ma la giornata è stata indubbiamente ricca di emozione e bellezza per tutti i partecipanti. Dalla Torre del Castero, qui di Castiglionfiorentino, Leonardo da Vinci ha disegnato, perlomeno diverse mappe ci insegnano questo, che abbia disegnato la bonifica della Valdichiana tra il Castello di Montecchio, altre torri che sono qui nei dintorni, pezzetto per pezzetto, siccome era un amante dei cavalli si presuppone che con il suo cavallo abbia fatto da una torre all'altra per dipingere la Valdichiana.